Le nuove sfide dell'Unione Europea. Questo il tema al centro di un convegno ieri pomeriggio all'Università del Molise. Vediamo. Dottoressa Mauro, oggi un convegno qui all'Università del Molise a Campobasso, ma solidarietà, democrazia, stato di diritto, sono tutti valori sui quali si dovrebbe basare l'Unione Europea. Oggi è davvero così? E' davvero così nel senso che l'Unione Europea dovrebbe basarsi su questi valori e come è emerso dalle relazioni di questo pomeriggio. Questo è un valore, questi sono valori fondanti, ma previsti dai trattati, quindi non solo sul piano politico, anche sul piano squisitamente giuridico. Quindi è così, sono valori fondanti. Però ovviamente purtroppo ci sono una serie di elementi di crisi di cui oggi stiamo discutendo, appunto in questo convegno che ho organizzato insieme con il collega Pace, che mettono a serio rischio il rispetto della democrazia, dei diritti umani fondamentali, della rule of law e anche appunto creano tensioni sociali e una disaffezione dei cittadini europei rispetto al progetto europeo. Tornando un po' a quello che dovevano essere le politiche europee. Le politiche europee hanno veramente portato il nostro Paese a una crescita economica, una crescita sociale. Qual è il bilancio oggi? Il bilancio è difficile da tracciare perché sicuramente è una crescita cessata ed è una crescita che molto spesso, a mio avviso, viene sottostimata, sottovalutata. Diamo per scontati molti elementi, molti fattori, molti progressi che non lo sono per niente. In realtà dietro questi risultati ci sono appunto 60 anni di storia faticosa, di equilibri, di compromessi, anche di insuccessi, però di riprese per così dire.